Benvenuta ad Elisa Manacorda, una collega che ha scritto un bellissimo libro che veramente vi consiglio di leggere. Il fattore X, quindi la specificità delle donne. Il primo libro peraltro sulla medicina di genere l'hai definito tu e Letizia Gabaglio che assieme a te ha scritto per Castelvecchi questo libro. Noi siamo giornaliste e quindi in qualche modo abbiamo ritenuto importante raccontare a chi questi temi non li mastica tutti i giorni quello che sta succedendo in questo settore. E quindi naturalmente ci siamo aiutate con chi questo mestiere lo fa veramente nei laboratori e quindi grazie anche a tutte le ricercatrici che lavorano effettivamente sulla medicina di genere. Che cosa abbiamo voluto raccontare? Abbiamo voluto raccontare il fatto che come dicevi tu donne e uomini sono diversi non solo per quanto riguarda l'apparato riproduttivo che tutti sappiamo ma anche per quanto riguarda le dimensioni del corpo, per quanto riguarda la stessa struttura. Le donne hanno una percentuale di massa grassa che è diversa da quella degli uomini, gli ormoni naturalmente e questo naturalmente è importante quando si parla di medicina perché le donne presentano dei sintomi per alcune malattie che sono diversi da quelli che si presentano nel sesso maschile. E quindi anche i farmaci e le terapie dovrebbero tenere conto. Dovrebbero, Elisa Managorda ha usato un condizionale, dovrebbero perché molti medici come trattano i bambini come degli adulti in miniatura e quindi si limitano a dimezzare le dosi, la famosa dose pediatrica, lo stesso principio attivo dose dimezzata. Siamo poi veramente sicuri che sia questo il metodo giusto. Per quel che riguarda le donne il problema non se lo pongono neppure ed invece per fatti ormonali, per predisposizioni, per masse, distribuzioni di massa nel corpo che sono profondamente diverse fra i due generi, come ci sta dicendo giustamente Elisa Managorda, questa attenzione bisognerebbe farla. Lo specifico delle patologie, il mal di testa è comune, anche gli uomini ne soffrono, però... Diciamo, vorrei fare una piccola premessa, occuparsi di medicina di genere vuol dire imparare a curare meglio le donne, ma imparare a curare anche meglio gli uomini non deve sembrare una piccola rivendicazione. Qui stiamo parlando di curare meglio sia uomini che donne. Per quanto riguarda il mal di testa, parliamo di emicrania per esempio, le donne soffrono di emicrania in misura estremamente superiore rispetto agli uomini. Non sempre è una scusa per sottrarsi a doveri coniugali. Non sempre è una scusa e questo naturalmente deriva dagli ormoni, tant'è vero che se si va a vedere il grafico relativo all'incidenza, quindi al numero di persone che soffrono di questa malattia, si vede che c'è un picco tra le donne proprio dopo la pubertà. Quindi questo significa che con l'arrivo degli ormoni, lo scatenamento della tempesta ormonale, succede qualcosa che ha a che fare con le malattie. Peraltro gli ormoni nella donna fanno da ombrello protettivo fino alla menopausa, la donna ha meno predisposizione a fatti cardiocircolatori, eccetera. Però purtroppo quando poi dopo la menopausa si chiude questo ombrello, si paga spesso con gli interessi, insomma la protezione che si ha avuto. Sono preparate, mentre gli uomini hanno dei livelli ormonali sostanzialmente statici dalla adolescenza sino alla terza età, le donne hanno delle variazioni e sono protette fino alla menopausa e poi si trovano completamente sotto la pioggia. Le donne hanno molto più di noi a che fare col dolore perché ogni mese avete le mestruazioni e quindi ci sono problemi anche collegati. Moltissime donne soffrono di fatti molto dolorosi collegati a e abusano di quei farmaci da banco molto spesso, non sei d'accordo? No, stavo pensando che per quanto riguarda l'analgesia, è vero le donne hanno una soglia di tolleranza al dolore che è certamente più bassa, quindi soffrono di più il dolore anche a parità di stimolo, ma i medici sono molto meno propensi a proscrivere opioidi alle donne rispetto agli uomini. E perché mai questo? Perché ritengono che per l'appunto le donne diciamo si lamentino un po' troppo. Tendono a lamentarsi insomma, la caricano un po'. Elisa Manacorda e Letizia Gabaglio. Grazie Elisa per essere stata qui con noi ad Ippocrate.